Inizia una nuova settimana per Bitcoin per i mercati delle cripto ed inizia benino nel senso che la settimana scorsa è stata una settimana ampiamente positiva per Bitcoin che ha fatto numeri importanti ma soprattutto ha rotto un livello di resistenza il primo, quello più facile, che era la resistenza dovuta a questa trend line discendente, quindi dinamica. Ma il più difficile resta questa aria qui in mezzo di cui abbiamo già parlato nei video precedenti e che proprio in questi giorni sta tenendo banco in questo momento. Ci sono anche una serie di dati relativi alle news che sono uscite, ci sono tre news importanti per Bitcoin di cui una riguarda anche la questione legata alla presidenza degli Stati Uniti, i candidati alla presidenza degli Stati Uniti e poi ci sono le news relative a quelle macroeconomiche della settimana. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video aggiornamento con il Bitcoin Monday per quanto riguarda questa settimana, che cosa sta succedendo sui mercati, quale che sono le news più importanti e soprattutto la questione legata all'analisi ciclica di Bitcoin, analisi tecnica e quello che possiamo attendere anche per questa settimana. Da un po' di tempo stiamo facendo anche riferimento a quelli che sono i nuovi livelli settimanali, un format che vi è piaciuto, diciamo, quindi li stiamo aggiungendo nel video di lunedì e anche in questo caso faremo la stessa identica cosa. Bene, allora senza perderci in chiacchiere andiamo subito a vedere una serie di dati relativi a quelli macroeconomici. Allora abbiamo per quanto riguarda il dato macroeconomico più importante della settimana, quello relativo al PIL in uscita giovedì 26 settembre e il trimestrale degli Stati Uniti che è atteso tra le altre cose ancora in rialzo. Quindi la parte, il dato più importante sarà quella, ma anche il discorso di Powell e poi per quanto riguarda la Fed. Non sono sicuro, diciamo, se l'orario sia giusto ragazzi perché sono ancora negli Stati Uniti, quindi lo so se gli orari dovrebbero essere comunque quelli, i italiani. Allora, non ci sono altri dati rilevanti secondo me che potrebbero muovere i mercati in maniera consistente in questa settimana, quindi sono un po' dei dati abbastanza semplici. Per quanto riguarda invece le news che vi avevo promesso ce ne sono tre di cui volevo parlarvi. Intanto la SEC ha approvato la quotazione delle opzioni di Bitcoin sull'ETF di Nasdaq per l'ETF di Bitcoin di BlackRock. In pratica le obbligazioni faranno, le opzioni faranno riferimento ai BTC, cioè l'ETF di Bitcoin. Ci sono stati diversi problemi relative a queste opzioni, però poi l'influsso, insomma, l'influenza di BlackRock è stata palese e quindi ha mandato in approvazione la SEC anche questi prodotti derivati. Allora, intanto questa è una notizia che riguarda l'evoluzione di Bitcoin, di come Bitcoin comunque sta entrando completamente nella finanza di natura mondiale, proprio in virtù di questo suo ETF che gli dà la possibilità anche di essere molto più liquido e quindi anche la possibilità di avere queste opzioni che poi, insomma, sono dei prodotti per lo più per istituzionali. Però la questione è anche legata al fatto che probabilmente dovremmo tener conto di cambiamenti nel comportamento di Bitcoin stesso, soprattutto nel comportamento legato all'analisi tecnica e all'analisi ciclica, in quanto questi cambiamenti dovuti alle emissioni di nuovi prodotti finanziari derivati per istituzionali modificano in sostanza gli equilibri domanda e offerta che poi riguardano i mercati delle crypto. Quindi probabilmente alcuni movimenti di Bitcoin non saranno come negli anni passati e quindi la consistenza della volatilità, per esempio, dell'asset cambierà. Questa è una variabile che bisognerà tenere in considerazione. Secondo me questa notizia sottolinea ancora una volta come si sta andando verso quella direzione. Per quanto riguarda invece la corsa alla campagna, le campagne elettorali, per quanto riguarda la corsa alle presidenziali degli Stati Uniti, Kamala Harris promette di dare impulso alla crescita di crypto. In realtà quello che promette è quello di promuovere risorse digitali, tra cui anche l'intelligenza artificiale. Da qui, insomma, molti hanno ragionato sulla possibilità che in effetti la candidata democratica per la presidenza degli Stati Uniti potesse essere estremamente più favorevole alle criptovalute, rispetto invece a Joe Biden che era estremamente duro nei confronti delle cripto. Quindi, in sostanza, ancora una volta, per la campagna delle politiche del presidenziale degli Stati Uniti, le cripto diventano argomento della campagna elettorale e sembrano essere sempre più, diciamo, lago della bilancia per prendere quei voti, magari, dei simpatizzanti che serviranno sicuramente per la vittoria dei presidenti. Tra le altre cose, sembra che la Harris abbia recuperato moltissimo del terreno che c'era da recuperare in vista proprio delle elezioni, perché Biden non era ben visto, diciamo, da mille punti di vista, uno dei quali era senza dubbio anche quello della sua negatività totale nei confronti delle cripto. Terza e ultima notizia di oggi è quella che invece è più interessante di tutti, le previsioni stellari. Chi la spara più grossa tra Kiyosaki e Vanek? Perché, in sostanza, sparano previsioni. Per Vanek Bitcoin potrebbe raggiungere 350.000 dollari e addirittura Kiyosaki parla di un milione di dollari. Allora, per quanto è il discorso di Vanek è senza dubbio un discorso più posato, che è legato alla capitalizzazione dell'oro. Infatti stima che Bitcoin potrebbe raggiungere metà della capitalizzazione dell'oro, e che significa che potrebbe raggiungere 350.000 dollari, perché l'oro in questo momento ha 11 trilioni di dollari di capitalizzazione. Quindi è una cosa che ovviamente lui ragiona in termini di possibilità, e senza ombra di dubbio come possibilità è nelle corde di Bitcoin questo tipo di ragionamento. Poi bisognerebbe vedere fra e quanti anni, insomma, se tutto proseguirà secondo questa direzione. In ogni caso, anche secondo lui, comunque le politiche monetarie in evoluzione, legate all'allentamento della stretta monetaria della Federal Reserve, quindi in sostanza al ribasso dei tassi, potrebbe spingere Bitcoin essenzialmente verso quella direzione nei prossimi anni. Mentre Kiyosaki la spara veramente molto grossa, ma ragazzi, Robert Kiyosaki è da un po' che è molto legato a Bitcoin, perché lui ha un pensiero estremamente chiaro sulla svalutazione della valuta dollaro, e sul disastro che le politiche di continua svalutazione del dollaro stanno portando, e quindi dice che tutto ciò che è non valuta dollaro assumerà valore in maniera consistente, in particolar modo è molto legato all'argento e all'oro, e ha aggiunto anche Bitcoin. L'argento, Kiyosaki è legato all'argento ragazzi da decine di anni, se non sbaglio, e ovviamente al momento non ha mai avuto ragione, però in linea di massima queste le sue idee. Quindi parla di 500.000 dollari, entro addirittura il 2025, grazie proprio alle politiche del ribasso dei tassi di interesse che la Federal Reserve dovrà fare. E poi parla addirittura di un milione, perché dice che gli asset reali esploderanno di valore contro i beni falsi, eccetera. Ovviamente lui tra asset reali mette le commodity ragazzi, non le obbligazioni e neanche le azioni che le chiama titoli di carta, quindi sostanzialmente non parla di asset reali come lo intendiamo noi. In realtà le azioni sono comunque asset reali, però Kiyosaki è molto legato proprio ai beni materiali, quindi immobili soprattutto, e in questo caso commodity come oro, argento, e poi ha inserito Bitcoin. Bene, detto questo ragazzi volevo darvi una news estremamente importante, molto molto bella per quanto mi riguarda, perché l'11 di ottobre prossimo rientrerò in Italia e sarò a Roma, ad Investing Roma, con due interventi ragazzi che trovate qui sulla pagina che vi lascio in descrizione. Sarà un primo intervento in sala premium alle ore 2, e poi il mio personale invece, c'è quello in sala cripto alle ore 15 e 30, dove parleremo delle strategie di trading nei cicli di lungo periodo di Bitcoin. Potete partecipare ad Investing Roma ragazzi, è ovviamente una manifestazione importantissima, alla quale io sono anche strettamente legato perché andavo da quando ero molto piccolo a tutte queste conferenze. Allora, tra i relatori intanto ci sono veramente tanti grandi nomi, spulciate nel sito ragazzi, e vedrete un po' tutti i relatori, ma anche tutti gli speech che saranno presenti. Vi lascio quindi il link, ovviamente saremo anche ad una location che è incredibile, perché saremo a Roma Eventi Fontana di Trevi, quindi bellissima location lì vicino, e sarà una giornata dedicata tutta all'investing e trading relativa appunto ai mercati classici, ma ci sarà anche la sala cripto dove saremo noi a gestire un po' il tutto. Quindi bellissimo, immancabile ragazzi, e poi ovviamente se siete lì ci parliamo come sempre facciamo, scambiamo informazioni e quant'altro. Quindi Investing Roma, vi lascio il link in descrizione, questa volta ci sarò anche io. Allora, andiamo a parlare invece della questione legata all'analisi ciclica di Bitcoin, quindi aggiornamento ciclico, aggiornamento analisi tecnica e i livelli della settimana. Partiamo dalla questione legata all'analisi ciclica. Bitcoin ha rotto il livello di resistenza numero uno, quindi il più semplice, quello più blando, che era la resistenza dinamica del canale discendente, anzi del triangolone discendente che si è andato a creare. Ora, la questione è molto semplice, siamo a metà circa del ciclo mensile di Bitcoin, perché siamo a 17 giorni. Ora, Bitcoin ha due strade che può andare a completare. Ancora, il ciclo mensile non è virato totalmente nella sua zona ciclicamente debole, perché questo è un ciclo probabilmente rialzista e quindi ha ancora molto spazio per poter fare nuovi massimi. Tra le altre cose è ancora in bilico completamente la questione legata all'annuale ciclico di Bitcoin, che sembrerebbe essere appunto in fase di evoluzione tra ho fatto il minimo in zona agosto-settembre, oppure devo riprovarci. Questo cambierà solo e unicamente dal superamento di questo livello di resistenza. C'è da dire però che questo rialzo di questi giorni e soprattutto la durata di questo rialzo, un po' elimina la probabilità che qui ci sia un ciclo ribassista da andare a concludere. In sostanza ribassista significa che dovremmo scendere sotto i 53 mila dollari, ragazzi. Ok, scusate ragazzi. Allora, questo perché? Perché in realtà a livello tempistico siamo andati molto in là con questo ciclo mensile, soprattutto siamo arrivati a livello di prezzo molto alti, perché siamo al limite massimo sopra il quale in pratica questo ciclo mensile appartiene a un nuovo trimestrale. E questo significherebbe, con una probabilità altissima, che qui è iniziato un nuovo annuale, o sul minimo di agosto o sul minimo di settembre, in base appunto a come considerate la questione ciclica. Ma a noi interessa poco se è agosto o settembre, perché in realtà quello che ci interessa è che in questo caso ci sarebbe la potenzialità per Bitcoin di poter fare nuovi massimi storici entro i prossimi mesi, che poi è quello che attendiamo con la questione legata allo sviluppo del quarto trimestre dell'anno, quello solitamente più forte per quanto riguarda i mercati del cripto. Allora, questa zona ancora fa da fortissimo livello di resistenza, ma è normale che sia così, perché al di sopra di questa zona, come vi dicevo, cambiano tutte le prospettive, quindi qui ci sarà un'accelerazione evidente per Bitcoin, ne parliamo tra poco, perché vi parlo anche dei livelli settimanali che sono secondo me importanti da andare a tenere in considerazione. Allora, per quanto riguarda la questione ciclica, Bitcoin ha fatto un ciclo di 10 giorni, se dovesse replicare un ciclo di natura ternaria, come sta facendo in questo caso, sarebbe 1, 2 e poi il terzo ciclo. In sostanza dovremmo avere una leggera contrazione nei prossimi giorni, fino probabilmente a massimo giovedì, per poi assistere in sostanza ad un ulteriore movimento che andrebbe a creare questa cosa. Io sono molto titubante dal fatto che se Bitcoin voglia andare a rompere questa resistenza, faccia minimi e quindi inizia a scendere in maniera pronunciata. Secondo me massimo, che proprio andrà a fare, proprio massimo, saranno dei livelli in pratica un pochino intorno ai 62.000 dollari, cioè farà una barra di congestione più che un movimento estremamente ribassista. Potrebbe scendere appunto di nuovo intorno alla zona 62.000 dollari, però se vuole andare a fare in pratica questa fase rialzista, questa spinta e rompere il livello di resistenza che vi dico, difficilmente potrà avere dei ribassi consistenti, come per esempio arrivare a 60.000 dollari facendo anche il pullback di questo livello, che sarebbe un po' quello che a livello di analisi tecnica giudicheremo normale, ma in realtà da questo punto di vista secondo me sarebbe un eccesso al ribasso e quindi non positivo per Bitcoin. Anche perché i tempi del ciclo mensile attuale iniziano a stringere, quindi qualora voglia andare a fare questo breakout dovrà prendere la rincorsa e poi breccare entro la fine di questa settimana. Quindi in sostanza se vuole rompere in questo ciclo mensile questo livello di resistenza, entro i prossimi giorni dovrà iniziare a provarci. Può riposare fino a martedì, mercoledì, insomma questo è il ragionamento ragazzi, fare minimi magari con qualche candela rossa, perché magari qui ne ha fatte veramente tante verti, tra l'altro queste che vedete che sono piccoline e rialzate in questo modo, sono a livello di analisi tecnica candele pericolosissime, cioè di solito sono la parte finale di una spinta rialzista, perciò poi danno spazio a dei movimenti di ribasso. Io credo che un po' di respiro serve a Bitcoin in questo caso, ma a livello ciclico ancora siamo in una fase che può spingere a rompere questo livello. Attenzione che la rottura di questo livello porterebbe direttamente in zona 67-69 mila dollari, con estrema velocità. Parliamo infatti anche della questione legata ai livelli di questa settimana, che in sostanza evidenziano in maniera molto chiara che c'è a livello settimanale, mentre a livello giornaliero c'è stato il breakout di Bitcoin di questa struttura di trendline dinamica, a livello invece settimanale è tutt'altro che così, perché la trendline è ancora in atto, è presente e soprattutto è legata anche al livello di resistenza più importante. Quindi guardate qui che cosa c'è. C'è un super livello di resistenza che se breccato porta direttamente a quest'altro livello, proprio in questa settimana. Quindi a livello settimanale i 69 mila dollari sono raggiungibili. Se il livello dei 65 mila e 5 crolla, questo è il discorso. Quindi se viene meno il livello dei 65 mila e 500 dollari, Bitcoin spinge, potrebbe arrivare con tranquillità a 69 proprio in questa settimana, per riposizionarsi a quello che è il suo vero livello di resistenza, cioè il massimo storico tra 69 e 70, qui se non sbaglio era 72 mila dollari circa in chiusura. Ovviamente ci sono le shadow, lo so ragazzi, però il livello di shadow sul settimanale conta veramente tanto e non quanto. Per quanto riguarda i minimi, la zona invece da tenere sotto stretta osservazione per questa settimana è, come vi dicevo, intorno ai 62 mila dollari. Quindi Bitcoin chiuso tra 62 mila dollari e questa super resistenza a 65 mila e qualcosa. Io dico 65 mila e 5 perché voglio dare spazio al Bitcoin di muoversi. Quindi questi sono i due livelli che dobbiamo tenere in stretta osservazione per questa settimana. Attenzione a questo livello molto difficile, vero? Ma l'accelerazione e le liquidazioni legate alle posizioni short che andranno in stop sopra quel livello sarebbero tante. Quindi questo provocherebbe un'accelerazione senza dubbio su questo punto. Anche perché, come vi dicevo, a livello ciclico cambierebbe un po' tutto e quindi ci darebbe la risposta al fatto che qui è iniziato il nuovo ciclo annuale. Bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Fatemi sapere un po' anche voi come vi state muovendo nei commenti per capire un po' se state seguendo anche questo trend o meno. Ciao a tutti!